SONO QUI PER FARE RIABILITAZIONE E poi hai detto che lì dietro non senti più niente. Smettila di stressarmi, non controlleranno mai dei disabili. Adesso tu seguirai la strada a qualsiasi cosa accada, capito? Sì. Ok? Sì. Ripetilo. Qualsiasi cosa accada. Ma mi dici dove diavolo siete e dove è finito il pulmino? Ci vediamo una volta superato il confine, ok? Quando tutto sarà finito. Sono un bravo autistatino! Oliver, giuro che ti ammazzo! Alla prossima!